2000 like in mezz'ora Bella a tutti burloni sono Marci e benvenuti in questo nuovo video delle cubo Non del sabato credo perché non credo che le caricherò di sabato Comunque siamo qui in una nuova partita insieme al buon Dano E oggi non ci sono premi sportività perché siamo tutti dentro bordello del mondo Ciao a tutti Ragazzi mi raccomando ricordatevi di lasciare un like Perché se facciamo 2000 like in mezz'ora Cosa impossibile io dico così tanto per Tano ovviamente Facciamo la nuova cubo settimana prossima Così a casa io lo dico così di cattivera che dici Mamma mia bordello mamma mia bordello Ma senza Tano però la fai No con Tano perché se no non ci sta Ma no non si può mica lo sai che Ascolta qua c'è un problema di fondo Io non trovo niente di interessante ogni volta Cioè è una cosa Siamo ai primi secondi di gioco Ho capito ma io di solito almeno ho l'arco il piccone quelle cose Le trovo subito Sto trovando solo merda A parte che sono spunchilato da cose che hai fatto spunare te Ma poi non Ma non sto trovando niente Solo blocchi Oh l'arco del tp va bene Ma c'è lo slime che hai fatto Vabbè c'è Io soltanto mob ho trovato Nell'inventario ho tre cose Nell'inventario Ma io vorrei Io sto trovando solo lucky block Vorrei trovare un piccone Ma piccone niente Mi tocca scavare un blocco a mano Oh è enderpearl Ho un botto di roba Guarda un altro arco del tp Ma non ho un piccone raga Un piccone No scappiamo non voglio morire Io ho trovato l'essenza demonica Non voglio morire Speravo fosse chissà che cosa E invece no Ok ascolta bomber Io voglio Ho ossidiano Ho tutto Ancora lucky block raga Ma che è Ancora Se vuoi ho trovato la legna Forse è buona Cioè è buona Però magari ti interessa Ascolta sto trovando solo maiali Tnt adesso Ascolta io voglio trovare Un maledettissimo Che cosa Un piccone Un piccone scava il diamante Che ho trovato io E ok Ma non ce l'ho al piccone Ho detto se lo trovi Guarda anch'io No 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 Sta distruggendo Eh sta distruggendo E come si fa Io non manco una spada Aspetta mi butto di mezzo L'ho ucciso con Il fuoco Sì l'hai ucciso Eh però cavolo Figlia In tre secondi Eh no aspetta che Facciamo bruciare il nucleo Uh uh Ah no che Vi dico che si stava spaccando il nucleo Ma è un bug No 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 sono io Sono io sono io Ascolta Qua sto chiudendo L'ossidiana Ce n'è uno Ce n'è uno Ce n'è uno Veramente Ce n'è uno Madonna Aspetta che Ci vado d'arco Se posso Ok l'ho ucciso L'ho ucciso io Ascolta Tano Serve per forza un piccone Vado a uccidere sto pic P996 Che ci ha presi un po' di mira Ci sta targhettando Sì sì bravo bravo Ascolta Tano Io ho un botto di roba Ho archi del tip in abbondanza Ti dico solo che ne ho tre Ma non ho un piccone Cioè io non ho un piccone Tu non ce l'hai Io ho bardato abbastanza bene Non dico benissimo Abbastanza bene sì Con l'ossidiana Quindi anche se dovesse tornare Non ce la fa a spaccarci tutto Ok Il problema è che io non ho una spada Ma io non A parte che non ho la spada La spada di Sina La spreco Ok l'hai buttato giù Non si fa senza piccone Cioè Ma io più che altro la spada Perché mi dico il piccone Il piccone prima o poi lo trovi La spada invece non ti puoi nemmeno difendere Se non ce l'hai Ok Non è più grave E hai ragione anche te Ma senza piccone come fai ad attaccare Ho trovato la spada ok Io sto trovando solo enderpearl bomber Solo enderpearl Io non ho invece di enderpearl Io ho 9 e 3 archi del tip in Ho trovato 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 Te lo passo Tieni Hai trovato anche le frecce Però sì ce l'ho le frecce Però aspetta un attimo Che non te lo do subito Ok poi sì ho capito Ho capito Tieni Ossidiana ossidiana buona L'ho subito tirato eh Dov'è? Che l'ho messo E lì L'ho preso l'ho preso Ascolta io c'ho anche la spada buona C'ho questo che mi metto qua Le frecce ne ho solo una Se ne hai un paio Da darmi Ne ho 5 Te le butto qua vicino alla crafting Nella chest Nella chest qua No te l'ho messo davanti alla crafting Vai 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 Vendicaci mi raccomando L'ho missata Come l'hai missata Ebbè tanto di ender Prendi un botto quindi No ma attento ho 56 archi del tip quindi Vabbè onesto Onesto L'unico problema sai qual è? I frecce però non tante eh Eh? Ok no I frecce non so quante tu possa avere Sono dentro Vai perfetto Mi raccomando eliminali Così non torno più nella nostra isola Obsidian Obsidian me la sono messa sopra Ok Perfetto Qua c'è Pitchx Ok Io qui Sono messo abbastanza bene in base Ok mi sto chiedendo dentro con l'ossidiana Però pesa Però pesa Tano Men eliminali Devi devastarli Non li sopporti due volte Mi ho ucciso col fulmine Perché praticamente il fulmine passa pure tra i blocchi Abbiamo trovato un tembile No 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 Ci stai distruendo ancora Vabbè dov'è? Aspetta È invisibile È invisibile Sto picoso dov'è? Ok l'ho ucciso L'ho ucciso ma era invisibile Ok va bene Sto picoso adesso deve morire Perché mi hanno rotto le bolle Mi hanno rotto Io intanto sto barrando con il legno Cavolo invisibile no Però Marci Tranquillo Ciò che non doveva succedere Quanti livelli hai? Eh mi ha ucciso Mi ha ucciso un Maytube Io ne ho quattro dei livelli Te quanti ne hai? Zero Però ti posso dare efficiency Cinque livelli in teoria Venite a me No no sono già da loro Sono già da loro Ok vabbè Perfetto notato però Ci sta Ascolta Se vuoi delle me le ho piglio Ne ho due Ti interessano? Sono glitchato in un blocco Pura che mi chichi per fly Eh cavolo Uh ho trovato l'ossidiana io perlomeno Ok buono Molto buono Potrebbe essere la svolta l'ossidiana eh Almeno questa è una cosa buona Il problema Marci è che Se uno viene da noi Comincia a spaccare Spacca tutto qui Sa bomberissima E questa me le metto da TNT Ma non credo mi faccia danno Arriva un'ora E la fine Oh non ho capito Quello che è successo Uh Marci ho barato al volo io Perché sono detto Di blocco Ok 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 C'è uno da noi C'è uno da noi Marci Eh devi ammazzarlo Per forza Tano L'ho visto È da noi invisibile No mi ha ucciso Mi ha ucciso Mi ha ucciso Mi ha ucciso Dove sei? È nella nostra isola invisibile Ho visto che c'hava dei blocchi in mano Ha apprezzato Della TNT La leva subito Di sicuro Di sicuro è il tizio lì Eh P900 Lo so Lo so benissimo Chi è che dice non usate H? Attenzione E io perché lo stavo mirando Anche se era invisibile Sapevo dov'era Era da nicarmi? Eh sì Era il vero dei per forza Perché era venuto da là Ok e questo è un po' E questo è un po' Un casino Come si fa? Se questo scava sotto I blocchi sono esposti Te lo dico subito Ok 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 Quindi mi ci vado Mi cicalo io di cattiveria Oh non mi hanno visto i rossi Non mi hanno visto i rossi Non mi hanno visto i rossi Non mi hanno visto Boom Sono andati fuori uso eh Fuori uso i rossi Fuori uso i rossi Dal blu No 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 Devi andare veloce Da questi qua Perché secondo me Ancora nella nostra isola Questo eh Eh lo so che pesa Però eh E così sì Questo qui guarda Che scava i blocchi giusti E la fine Sono di seguito I blocchi nostri Ma no Da nicarmi È qui dal blu eh Come davvero? Da nicarmi è dal blu Io vado dal verde Allora Ah perché è morto Perché è morto Si è suicidato Io stavo tirando Sbarata a casa Nella nostra isola Lo sai Devo solo precisarti E vabbè Dai sono cose che capitano Devo stare attento Veramente perché Se questi qui arrivano per ora È un casino Cosa ho fatto Tano? Tano cosa ho fatto? Hanno due blocchi I blu Ma i due hanno due blocchi? Io sono dei verdi Come sei dei verdi? Io sono dei verdi Ti avevo una mano? E ho fatto qualcosa di anomalo Tano Te lo giuro Ma ti sei perdato dentro? Dimmi di sì ti prego Ma ancora no Eh Pesicchia un pochettino Io intanto sono qui in base Che sto guardando più o meno Invece adesso sto cercando delle cose Ma come ha fatto a uccidermi? Come ha fatto? Ha usato la magia La magia Non lo guardo Ascolto Tano È arrivato il momento di farsi l'armatura Lo sai Allora facciamo così Mi faccio questo No fermati 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 Ho già fatto Cosa che hai te? Torpetto del demone Eh cazzo Vabbè tanto ti serviva anche a te questo qua Tieni Ti ho dato la chestplate normale io Ti dirò quella del demone Ti do questa E ti do anche una melopi Una però Eh vorrei fare l'attacco buono stavolta La mangio direttamente Eh sì Mi raccomando Non sprecarla però Ok Se la sprechi Io ti punisco In verità ne ho anche un'altra Però veramente non sprecarla Sono glitchato Mi kicka per fly No 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 Dove sei dove sei dove sei Non ti vedo nemmeno Marci Mi dispiace Ok mi sono sglitchato Ok perfetto Uuuuh Sono caduto Bug Sono caduto Vediamo se la ender Per se è riuscito a salvarmi Ma basta sto qua Madonna Oh senti io qui sto trovando Continuando a trovare tipo delle cose schifose Veramente Mi stanno andando noia Mi turbano Basta Cani schifosi Sono in associazione Un botto critica Lui crede che io sia morto Lui crede che io sia Davvero E qui scrive Eh Marci non lo so Se vuoi arriva Anch'io Eh sì Devi venire anche te qua Eh Perché loro sono sul loro nucleo Hai un distracto No purtroppo non l'ho trovato E sto condannando a far sponare Anche cose schifose Dio mio anche il buco Eh arrivo subito Tu sei ancora lì Sì purtroppo lui se la sta camperando Marci Marci sei ancora lì oppure no Sì sì sono ancora qua Tano Ok perfetto arrivo Penso di aver attirato Peso un bot Ma ah uno è nude senza nulla Dov'è che sia la campera scusa Eccolo qui Io sono sopra il loro nucleo Vai Ci sono Ah ma siamo tutti qui Siamo tutti qui eh Ok uno l'ho ucciso Questo qui non so chi era ma l'ho ucciso C'ha dei blocchi qua sotto Devi tenere L'ho rotto io Io sento spaccare un pezzo di vetro Scusate io l'ho rotto un blocco io Sono sotto i blocchi Sono esposti Li ho visti Eh sto spaccando da sopra io Sto spaccando da sopra Riesci a tenere No no sono sotto i blocchi Sono sotto L'ho visti Tutti esposti Sono tre blocchi minimo Uno due Tre Io te li sto tenendo occupati tantissimo eh Ok Quanto ne abbiamo ancora? Sto facendo la provata del secolo Sì cos'è la provata del secolo Eh ce ne ho Però sono morto Ti sta tirando d'arco Ok sei vivo? Sei vivo? Sei vivo? Marci mia No Marci Marci La fine Perché? Mi ha droppato l'inventatario Per il bug Il mio inventario è lì Ci sono due stacche di enderpearl Ok li ho uccisi Li ho uccisi Marci Marci C'è il mio inventario Eh dov'è dov'è? Sotto All'oro Lo sta rubando lui Lo sta rubando C18 L'ha rubato il C18 No Due stacche di enderpearl È ancora vivo Oh l'ho ucciso L'ho ucciso Le enderpearl sono qua Vieni Li puoi prendere solo te credo Che la mano le fa prendere le enderpearl Ok aspetta Sì ho 11 enderpearl Vieni veloce Sono comunque Sono arrivato Sono arrivato Erano molte di più Marci Sì sì ho due stacche Ti ho buttato giù uno stacche Ti ho ributtato uno stacche Vado da loro io Me lo pievado Ma perché questi bug? Me lo pievado eh Me lo pievado Sì vai 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 No ho missato Cavolo Non ci voleva questa Non ci voleva Sono morto con la meloppi Vabbè non è Raga Raga per sbaglio Ho sbagliato Quello che volevo fare Effettivamente Ho sbagliato proprio la cosa Pesa Pesa perché non riesco a morire Sai che io devo il distracto? Perché? Avranno bardato Che è una meraviglia No 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 fai niente Fidati che non serve il distracto Adesso tu vai da una parte Non da loro io Ok però l'unica cosa Ma li vedi tutti e due lì? No Non ne vedo nemmeno uno Sarò sincero Eh sai che ci hanno Vabbè intanto comincio a farti un buco Da dietro la loro isola Va bene Io sto un attimo nell'isola allora E io comincio No vieni Ah no è vero Se arrivano loro è un casino Non hanno guardato Ma tu sei dai i blu? Sì i blu C'hanno un blocco qui esposto Glielo vedo Marci vieni anche te Vieni veloce veloce Arrivo arrivo Noi abbiamo 37 cosi No 37 sono 3 blocchi Perché 3 blocchi? Perché uno è il nucleo Pazza Marci vieni veloce Vieni veloce Di dietro il loro nucleo Ci sono ci sono Dove sei? Un blocco glielo ho levato Gli ne manca uno Hanno ballato però con lo schifo in teoria Sono qua Tano Non so dove Spassati No 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 Non so dove sia Fammi entrare Fammi entrare Fammi entrare Entrate entrate veloce veloce Gli ne manca uno Ma veramente non so dove sia Stanno spaccando Ucciditi Marci Ucciditi Eh ci ammazzano No no non ci ammazzano Non ci ammazzano Non ci ammazzano Ho tirato l'ender per No non me l'ha tirata Non me l'ha tirata Tano siamo morti Marci Sono tutti e due qua Che stanno spaccando Uno lo Ok Tieni distratti No 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 Dove è il loro blocco raga Non lo trovo Marci 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 Sono qui del loro È chiuso il nostro blocco Non lo so Non ne ho mai Metà l'ho ucciso C18 Metà l'ho ucciso C18 Sì 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 Anche l'altro Anche l'altro è qui Ok riesci a ucciderlo Si è ucciso Sì 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 Non sapevo neanche noi Dove è il loro Io però i nostri Lo so dove sono Almeno questo Ok perfetto Guarda che abbiamo fatto Una mossa assurda Eh lo so Portano 3 2 1 BOOM Una vittoria assurda In realtà non era assurda Se l'hanno giocati bene tutti GG ragazzi GG davvero E niente ragazzi Noi ci vediamo in un prossimo episodio del cubo Da Marci è tutto Bella 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 Bella